Eccoci qua, 17.33, minuti cari ragazzi, questo è Radio Potenza Centrale, come vi dicevo e dico da sempre che siamo una potenza di radio. Oggi, ospite qui nei nostri studi, abbiamo Luigi del Comitato Festa di Ruoti, San Donato. Buon pomeriggio caro Luigi. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Bene, tutto bene. Ok, siamo qui per parlare un attimino dei due giorni, sabato e domenica, però raccontami un po' questo Comitato Festa, da quanto tempo è che è stato messo in piedi e quanti siete, così spieghiamo un po', se siete tutti di giovane età, perché Luigi è davvero un ragazzo giovanissimo. Siamo un Comitato di 12 persone, è stato messo in piedi due mesetti fa, io sono l'ultimo arrivato, sono anche il più piccolo. È un Comitato che è molto speciale, perché abbiamo da una parte degli adulti che hanno esperienza e dall'altra dei giovani che dagli adulti apprendono l'esperienza. E abbiamo formato questo Comitato, un mix fra esperienza e giovani, come me. Bravissimo, poi è anche una bella cosa che tu sei l'ultimo arrivato, ma sei il primo ad entrarti nel clima radiofonico, è la prima volta. Sì, sì, è la prima volta, anche per me, a 19 anni, sono giovanissimo. Quindi giovanissimo, a 19 anni, la prima esperienza in radio, dove vai a illustrare un po' quello che accadrà in questi due giorni. In queste due sere, sì, sì, sì. Benissimo, allora il Comitato Festa San Donato, giusto? Sì, sì, sì. Sabato 6 e domenica 7, raccontaci un po' come si svolgeranno questi due giorni. Siamo quasi agli sgoccioli, domani sera avremo Radio Potenza Centrale, che organizzerà con alcune sue cover, quella di Raffaella Carrà, quella di Maria Nazionale e quella di Albano, in Villa Comunale. Domani sera alle 21.30 ci saranno queste. Invece, nella serata di domenica sera abbiamo il gruppo locano di Bernaldo, ovvero i Cricka Reg, molto famosi, anche loro, sempre alle 21 in Villa Comunale. Aspettiamo tutti. Quindi diciamo, come abbiamo appunto detto prima, che il Comitato Festa è fatto da adulti e giovani e quindi avete accontentato con noi di Radio Potenza Centrale. Andiamo ancora a ripetere che ci sarà la cover di Raffaella Carrà, Enza Ganà, Fiorella cover di Maria Nazionale, cover di Albano, Carmine Albano e poi per i più giovani abbiamo i Cricka Reg. I Cricka Reg. Abbiamo accontentato sia, diciamo, gli adulti che i giovani come me. Esattamente. E quindi sono tutti felici a ruoti. Sono tutti felici. Bene, avete altri progetti per il futuro? La prima volta? Ogni anno si rifà? Ogni anno sì, si rifà il Comitato e faremo le feste di San Rocco, più avanti, il 16 agosto e poi la prima domenica di settembre e organizzeremo anche varie cose, altre cose. Bene, bene. Hai qualche comunicazione importante da fare ai nostri amici che sono in ascolto? Domani sera alla Villa Comunale, ore 21 e 30, vi aspettiamo tutti a ruoti. Benissimo, quindi hai detto per l'appunto quello che dovevo dire poc'anzi io nella comunicazione che dovevamo fare. Quindi il Tour Estate 2022 in occasione della festa di San Donato, sabato 6 agosto e domenica 7 agosto in Villa Comunale. Quindi, ragazzi, andiamo tutti a ruoti, sabato e domenica. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo tutti, lo dico anche io perché faccio parte di questa emittente e dobbiamo essere tutti presenti in ogni evento, soprattutto questo. Molto molto bello, è vero Luigi? È vero. Grazie a Radio Potenza Centrale. Grazie a voi di ruoti, un abbraccio e buona festa. Ciao. Ciao.